Prima che gli Yordel si stabilissero a Bundle City, c'era solo un albero. Nessuno sa quando o perché abbia iniziato a riempire lo spazio oltre la realtà, estendendo rami nel reame spirituale, fino a sfumare i concetti di inizio e fine. Semplicemente era ed è sempre stato. La sua magia fatata ha raggiunto Runeterra tramite vorticosi portali, che forniscono un passaggio sicuro a chiunque voglia scoprire un mondo oltre il proprio. Il mondo oltre la foresta di Bundle. Gli Yordel che percorrono queste vie incantate portano con loro una magia capricciosa. Fidati, io faccio sul serio. Che tesse anomalie nella trama del reame materiale. Gli Yordel raccolgono storie e oggetti delle terre che scoprono. Quali grandi scoperte ci attendono? A Runeterra, un avventuriero Yordel deve tenere gli occhi aperti. Bene, palle di pelo, attenti! Ci sono pericoli in ogni dove. Dalla fauna naturale... Ai folli gadget di Piltover e Zone. Grazie, Bumi, che arriva! Senza dimenticare la vita marina delle coste di Bilgewater. Non ti serviva, vero? Mentre le impossibilità della magia sono un semplice giocattolo per gli Yordel, non tutti i runeterrani apprezzano la loro ironia. Dammi l'oscurità, Senza. E forse ti lascerò vivere. Per tua fortuna sei carino, Vague. Per ogni scout che rispetta il codice e ogni artigliere coraggioso, ci sono almeno un ambizioso burlone, un abitante dell'oscurità e un genio esplosivo che non vede l'ora di combinarne una. Ma gli Yordel hanno un talento unico nel farsi amici in luoghi inaspettati. Sampotruppa scout di Bardol al tuo servizio. Sei senza dubbio il partner più peloso che abbia mai avuto. Ovunque li porti la vita, la loro tenacia, la loro incrollabile fedeltà e la loro visione giocosa del mondo sono una risorsa per tutti gli alleati. Quindi sì, tutto è cominciato con l'albero. Poco importa dove sono le tue radici, non smettere mai di crescere, di osare, di migliorare. Nutri il tuo senso della meraviglia e dell'avventura. Questa è la vera magia di Bundle City. Ha, 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 ha! A presto! Grazie a tutti.